Domenica alle ore 20 a Santa Maria della Palma porteremo in scena il reading poetico breviario per notturni campestri, la seconda volta che lo portiamo in scena con le musiche di Quirico Solinas. Dicevo alle ore 20 al cortile del centro di aggregazione sociale impegno rurale, in caso di maltempo, cosa molto possibile, ultimamente lo spettacolo si svolge all'interno della biblioteca di Santa Maria della Palma, sempre impegno rurale. E' uno spettacolo con 20 mie poesie inedite, musicate, lo stiamo portando un po' in giro, dopo Santa Maria della Palma lo porteremo al Medo, Ristano, Bosa, insomma un piccolo tour poetico, niente, quindi vi aspettiamo e speriamo vi piace.